Dunque l'amministrazione afferma di avere già deciso la pavimentazione del ponte sarà in pietra. Per i dettagli invece si rimanda al futuro, ma intanto sul materiale non si tornerà indietro a quanto pare è stato deciso che si utilizzerà proprio la pietra. Peccato, un'occasione persa per condividere questa scelta con la città. Il progetto originario prevedeva il legno, d'accordo era solo un progetto, ma aveva un fondamento. Il legno concorreva alla stabilità del ponte, non era solo una questione di pura estetica. E poi noi abbiamo chiesto spesso nelle scorse settimane ai cittadini cosa ne pensavano e la preferenza per il legno era stata chiara. Insomma, ora chiediamo all'amministrazione di sentire i bassanesi, di fare una consultazione popolare su questo argomento. Il ponte, è bene ricordarlo, non appartiene a qualcuno, ma è dei bassanesi che sarebbero ben contenti di essere chiamati a esprimersi. Ricordiamoci anche che il ponte è al servizio dei pedoni e quindi il legno sarebbe molto più adatto a questo scopo.